Per un minuto e mezzo, l'onorevole Chinnici. Grazie, grazie Presidente e grazie Signora Commissaria. L'istituzione della Procura Europea è senz'altro uno dei maggiori progressi nel processo di integrazione europeo di diritto penale, perché si tratta di un organismo che avrà non soltanto funzione di coordinamento, ma è per la prima volta un potere diretto nell'esercizio dell'azione penale e che troverà nella direttiva PIF una normativa penale armonizzata per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il testo negoziato dal Consiglio rappresenta un buon compromesso che tiene in debito conto molti dei suggerimenti formulati dal Parlamento europeo, fra questi l'inclusione delle frodi IVA nella competenza della Procura, l'inserimento di norme adeguate in materia di trattamento dei dati personali e la previsione di specifiche garanzie procedurali, soprattutto con riferimento al controllo giurisdizionale delle decisioni della Procura stessa. Resta il rammarico per il mancato raggiungimento dell'unanimità. Ciò nonostante sono convinta che il testo garantisca, così come sollecitato dal Parlamento, adeguate misure per il coordinamento e la cooperazione giudiziaria anche con quei Paesi non partecipanti, che devono rimanere quanto più possibile all'interno del sistema europeo di contrasto penale dei reati PIF. L'auspicio è che la Procura europea possa iniziare la propria attività nei tempi previsti per un più efficace contrasto agli illeciti finanziari in danno dell'Unione. Con la prospettiva, come dalle stesse ha sottolineato, signora Commissaria, e anche per questo la ringrazio, di una possibile futura estensione delle competenze ad altri gravi reati di natura transfrontaliera, quali i reati di criminalità organizzata e il terrorismo. Grazie. Grazie, onorevole Chinnici. L'interprete avrebbe voluto che lei parlasse più lentamente, ma non volevo interromperla nel discorso, però siamo consapevoli della velocità. Andiamo avanti. Do la parola all'onorevole Ujazdowski. Grazie.